Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili, bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaiai Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Benvenuti a questa nuova puntata di Esplorare i confini, il programma prodotto dal Circolo Bianchini. Io sono il professor Filippo Martelli dell'Università di Urbino, sono membro della collaborazione Laigo Virgo che ha partecipato alla scoperta delle onde gravitazionali e oggi vi voglio parlare dell'universo. Faremo un viaggio attraverso lo spazio e il tempo per capire che cosa si nasconde dietro al cielo stellato e soprattutto per capire quali sono le nuove frontiere dell'astronomia, l'astronomia multimessaggera, quella che è nata proprio in questi anni, unendo le informazioni che l'astronomia tradizionale poteva fornirci con quelle che invece l'astronomia gravitazionale è in grado di darci. Allora immaginiamo che sia una sera d'estate, nei giorni precedenti ha soffiato un vento secco che ha reso l'aria estremamente terza. Noi, richiamati dal tepore estivo, siamo invogliati a uscire all'aria aperta e se abbiamo la fortuna di vivere in campagna o se magari ci troviamo in una località di montagna, quindi lontano da quell'inquinamento luminoso che le luci delle città producono, alzando gli occhi abbiamo di fronte uno spettacolo che ha lasciato stupefatto e incuriosito l'uomo dalla sua comparsa sulla terra. Abbiamo di fronte il cielo stellato, migliaia di punti luminosi, qualcuno di più, qualcuno di meno, che sembrano diamanti incastonati in una volta quasi solida, che col passare delle ore sembra ruotare sopra la nostra testa. Non solo, ma se ripetessimo le osservazioni durante le sere successive scopriremo che la posizione di queste stelle cambia, qualcuna non si vede più, qualcun'altra compare. In più ci sono degli altri puntini luminosi, delle altre stelle che sembrano invece muoversi indipendentemente da tutto questo. Beh oggi noi sappiamo che cosa stiamo guardando, sappiamo che stiamo guardando le stelle, le stelle della nostra galassia, sappiamo che quei puntini luminosi sono i pianeti, sappiamo che questo è solo un moto apparente dovuto alla rivoluzione della Terra attorno al Sole, alla rotazione della Terra che dà questo senso di movimento con un po' di sorriso a quello che erano le credenze che aveva l'umanità nei tempi passati riguardo a questo spettacolo che vedeva, anche se ancora oggi purtroppo c'è qualcuno che pensa che tutto questo sia finto e che la Terra sia piatta. Però dobbiamo renderci conto che non era facile capire come fosse davvero la realtà, che era logico che l'uomo vedendo questo spettacolo cercasse di proiettare in quel cielo qualche cosa di soprannaturale. Anche a noi viene istintivo congiungere con delle linee immaginarie le stelle che vediamo, quelle più luminose, giungendo così a formulare dei disegni stilizzati come quelli di un bambino che ci ricordano delle immagini e ricordano immagini che appartengono alla nostra cultura. Le costellazioni infatti hanno nomi diversi e raffigurano immagini diverse a seconda della cultura che le rappresenta. Ci sono anche oggetti di uso comune come per esempio la bilancia. Ecco tutto questo riflette questa necessità dell'uomo di trovare nella volta celeste qualche cosa che potesse guidarlo nel cercare di vedere se la posizione delle stelle poteva predire il suo futuro, poteva essere presagio di qualcosa. Oggi lo sappiamo che tutto questo non ha senso, che le stelle appaiono più luminose perché magari lo sono davvero o perché magari sono più vicine o meno luminose perché pur essendo estremamente luminose si trovano molto distanti da noi. Sappiamo che quelle stelle sono lì da sempre, da ben prima che ci fosse l'uomo, non da sempre ma insomma da almeno quanto si è formata la terra o il sistema solare. Per cui è chiaro che non possiamo immaginare che rappresentino degli oggetti che noi usiamo eppure l'industria degli oroscopi è ancora oggi molto fiorente. Ora i romantici di questa visione in qualche modo credono che la conoscenza scientifica del cielo, delle stelle, della loro natura, delle loro distanze sia qualcosa che toglie un po' di fascino a quello che è la bellezza dell'universo. In realtà io credo che la conoscenza di quello che noi stiamo vedendo ci dà una dimensione ancora più interessante, ancora più affascinante di quella che poteva avere l'uomo che guardava al cielo senza capirne i meccanismi. Perché l'uomo ha impiegato così tanto tempo per aggiungere a una conoscenza più concreta di quello che stava guardando? Beh sostanzialmente perché gli mancavano gli strumenti. C'è da dire che guardando le posizioni degli astri, prendendo tutti i dati che gli astrologi nel tentativo di predire il futuro avevano raccolto, l'uomo con un grande sforzo di intelletto è riuscito a capire che non era la volta celeste a ruotare attorno alla Terra ma che in realtà era la Terra che ruotava. È così nata la rivoluzione copernicana senza l'ausilio di strumenti ulteriori. Tuttavia la disponibilità di nuovi strumenti ha permesso all'uomo di progredire in questa conoscenza e di questi nuovi strumenti diciamo il più importante è senza dubbio il cannocchiale. Quando Galilei ha potuto utilizzare il cannocchiale ha potuto confermare quelle che erano le predizioni della rivoluzione copernicana, della teoria egliocentrica. Ha potuto osservare i satelliti di Giove e rendersi conto che c'erano dei corpi celesti che ruotavano attorno ad un altro corpo celeste. Ha potuto guardare le stelle, vedere che anche con un cannocchiale apparivano come dei puntini luminosi. Ma il cannocchiale nei secoli ci ha aiutato a capire molto di più perché il cannocchiale permetteva di isolare l'immagine di una stella e ci permetteva quindi di studiare la luce che quella stella emetteva. Allora a studiare la luce si può fare con un'operazione che tutti noi abbiamo visto fare tante volte. Quando la luce del il sole entra nel cristallo di un lampadario si separa nei suoi colori. Quando guardiamo all'arcobaleno sono le goccioline di acqua che fanno questo. Allora se noi prendiamo la luce di una stella e la separiamo nei suoi colori ci accorgiamo che in quei colori sono presenti delle righe scure. Queste righe scure con i progressi delle conoscenze scientifiche ci hanno fatto capire quale fosse la composizione chimica delle stelle. E dalla composizione chimica delle stelle, dalla loro temperatura, siamo arrivati a formulare delle teorie su come le stelle nascono, come evolvono e poi come alla fine muoiono. Abbiamo capito che quei punti luminosi della volta celeste non sono altro che tanti soli, tanti oggetti molto simili al nostro sole, qualcuno più grande, qualcuno più caldo, qualcuno più piccolo, più freddo. C'è una grande varietà, però sono tutti soli. Sono degli ammassi di gas che la gravità comprime sempre di più fino a quando la temperatura di questo gas non raggiunge dei valori così elevati da innescare una esplosione termonucleare, da far sì che l'idrogeno, questo gas che si sta comprimendo, cominci a convertirsi in elio con una grande produzione di energia. Questa esplosione che si innesca contrasta la forza di gravità e quindi si crea questa sfera che rimane in equilibrio per milioni e milioni di anni, per miliardi di anni. Il sole ha 4 miliardi e mezzo di anni circa e dovrebbe poterne vivere almeno altri 4 e mezzo o 5. Ci sono stelle più calde che bruciano più in fretta, molto più grandi, che possono vivere centinaia di milioni di anni e ce ne sono alcune che invece possono vivere ben più di 10 miliardi di anni. C'è una grande varietà, però sostanzialmente il meccanismo che funziona, il meccanismo che fa bruciare una stella che fornisce energia, per esempio a un pianeta come il nostro, è un meccanismo in cui l'idrogeno, compresso dalla gravità, brucia e si trasforma in elio. E verso la fine della vita della stella, la stella è in grado di produrre anche tanti altri elementi pesanti, molti dei quali sono quelli che costituiscono il pianeta nel quale viviamo e anche noi stessi. Già questa è una visione nuova, è una visione che ci affascina perché quando guardiamo quei punti luminosi sappiamo che stiamo guardando tanti soli distinti. E il progresso scientifico, la possibilità di fare gli spettri stellari, di vederne la composizione chimica, ci ha fatto capire tantissimo. Ora, le conoscenze però sono andate avanti e proprio dalla conoscenza del meccanismo con cui una stella nasce, si evolve e poi alla fine muore, si sono potute dedurre alcune proprietà che hanno permesso anche nei casi più difficili di capire quale fosse la distanza delle stelle, di capire quanto fossero vecchie, quanto fossero calde, ma anche attraverso l'uso del cannocchiale di capire che le stelle che noi vediamo nel cielo sono tutte le stelle appartenenti alla nostra galassia. A occhio nudo noi non vediamo nulla che non appartenga alla nostra galassia. Con l'uso del cannocchiale possiamo andare un po' più lontano, possiamo accorgerci che ci sono degli oggetti meravigliosi, delle nuvole di gas colorati, ci sono anche dei grandi agglomerati di stelle ai quali abbiamo dato il nome di galassie e la nostra, quella in cui viviamo, è appunto una galassia, un agglomerato di stelle, le stelle che vediamo sono tutte quelle della nostra galassie, ma ci sono tante altre galassie che il cannocchiale ci ha reso visibili. Ecco che così è andata delineandosi una geografia dell'universo che più o meno tutti conosciamo. Sappiamo che ci sono stelle più vicine, stelle più lontane, galassie lontane. Tante volte abbiamo sentito parlare di queste distanze astronomiche che quantifichiamo in termini di anni luce, cioè quanti anni impiega la luce, che è quanto di più veloce esiste in natura, per percorrere queste distanze. Queste distanze sono così grandi che diventa veramente difficile immaginarsene. Per immaginarcele dobbiamo cercare di fare un gioco di scala, ridurre le dimensioni degli oggetti a qualche cosa che siamo in grado di comprendere. Noi infatti siamo in grado di comprendere distanze di metri, di centinaia di metri, di chilometri. Una distanza molto grande è una distanza che possiamo percorrere in macchina di 400 chilometri, di 500 chilometri, però distanze molto di più già richiedono l'uso dell'aereo e quando facciamo un viaggio aereo di solito perdiamo un po' questa cognizione di quanto distanti siamo dal punto di partenza. Figuriamoci quando parliamo dell'universo. Allora immaginiamo di prendere il Sole. Il Sole è una stella che ha un diametro di 1.400.000 chilometri. È difficile immaginare 1.400.000 chilometri. Allora immaginiamo di ridurre le dimensioni del Sole a quelle di un pallone, un po' più piccolo di un pallone da calcio, una pallina con cui giocano i bimbi, una pallina di 14 centimetri. Beh, la terra quanto sarebbe grande? La terra sarebbe un granello di sabbia, di un millimetro, poco più di un millimetro. E dove si trova la terra rispetto a questo pallone da calcio? Si trova a 15 metri di distanza e gira attorno al Sole a 15 metri di distanza. Quindi già questa enorme distanza, 150 milioni di chilometri, è diventata qualcosa che possiamo immaginare all'interno di una stanza, 15 metri. Però va aggiunto un particolare. La luce è quanto di più veloce esiste in natura. La luce percorre 300.000 chilometri in un secondo. Vuol dire che in un secondo fa sostanzialmente la distanza da qui alla Luna. Non è che non sappiamo andare più veloci della luce perché non abbiamo le tecnologie. La velocità della luce è veramente un limite della natura, non si può superare. Ecco, la luce per andare dal Sole alla Terra impiega 8 minuti circa. Il che vuol dire che su questa scala, se noi percorriamo questi 15 metri, dobbiamo muoverci molto piano perché dobbiamo impiegare ben otto minuti per arrivare alla Terra. Il sistema solare quanto spazio occupa in questa scala? Sostanzialmente un chilometro. Nell'arco di un chilometro si esaurisce. Ci sono altri puntini molto piccoli che girano attorno al Sole. Qualcuno più vicino, Venere e Mercurio, qualcuno più lontano, qualcuno un po' più grande, Giove, però nell'arco di un chilometro è finito tutto. E poi c'è il vuoto, il vuoto interstellare. Però sappiamo che ci sono altre stelle. Ci sarà un'altra stella vicina? Certo che c'è. La più vicina di tutti è Proxima Centauri. Si trova a quattro anni luce da noi. Quanto sono quattro anni luce nella nostra scala? Quanti chilometri saranno se il sistema solare occupa un chilometro? Beh, la stella più vicina, Proxima Centauri, è a 4.000 chilometri dal nostro pallone da calcio. Se noi siamo in Italia, in una stanza, dobbiamo immaginare che quest'altro pallone luminoso si trovi nel centro dell'Africa. E capite che il gioco finisce qui, perché anche altre stelle saranno a 8.000, a 10.000. E la scala non riusciamo già più a comprenderla di nuovo. Dobbiamo ridurre ancora. Allora possiamo ridurre le dimensioni di tutto il sistema solare in modo che siano contenuti in un millimetro. In questo puntino c'è tutto il sistema solare, compreso il sole che è diventato veramente minuscolo, la terra invisibile e noi. Inutile nemmeno dirlo. Allora in questa scala i puntini luminosi li riusciamo a vedere a distanze intelligibili. Se il sole si trova qui, a 4 metri di distanza ci sarà Proxima Centauri. A 8 ce ne sarà un'altra, 10, 20. Camminiamo in questo paesaggio di puntini luminosi che in realtà è un disco. È la nostra galassia, la Via Lattea, quella che nel cielo stellato che descrivevamo prima è una specie di fiume lattiginoso che percorre il cielo quando noi guardiamo nella direzione del centro della galassia o dei bordi della galassia dove ci sono più stelle. Per quanto tempo, per quanto spazio incontriamo questi puntini luminosi? Beh per un centinaio di chilometri. La nostra galassia in questa scala occupa 100 chilometri circa, 100.000 anni luce. Per fare questi 100 chilometri alla massima velocità possibile ci vogliono 100.000 anni. Però ci sono altre galassie. Vicino alla nostra galassia c'è la galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda si trova a 2 milioni e mezzo di anni luce da noi. La luce da Andromeda impiega 2 milioni e mezzo di anni per arrivare a noi. E dove si troverebbe? Beh si troverebbe a 2.500 chilometri di distanza. Quindi abbiamo questa nuvola di un centinaio di chilometri, i puntini luminosi che sono le stelle della nostra galassia e a 2.500 chilometri di distanza Andromeda, un'altra nuvola. Di nuovo non riusciamo più a immaginarci queste distanze. Dobbiamo scalare ancora. E allora immaginiamo di prendere la distanza della nostra galassia, questi 100 chilometri, di comprimerli ancora, di farli diventare 10 centimetri. Una nuvoletta di 10 centimetri è la nostra galassia. Altre nuvolette si trovano a qualche metro di distanza. Andromeda a 2 metri e mezzo e così via. E scopriamo che le galassie si raggruppano anche loro in qualcosa che noi chiamiamo ammassi di galassie. Noi facciamo parte dell'ammasso locale, vicino c'è l'ammasso della Vergine che in realtà costituisce qualche cosa di più grosso, un super ammasso. E poi ci sono dei vuoti ancora più grandi di quelli che ci sono tra una galassia e l'altra. Filamenti che pervadono tutto l'universo, fatti di galassie che nella nostra scala sono di una decina di centimetri. Però a un certo punto non sappiamo più andare oltre. Dopo che abbiamo percorso in questa nuvola di galassie, 13 chilometri e mezzo, 14 chilometri, andiamo in quello che è un universo sconosciuto, un universo non visibile. Perché, come vi dirò tra poco, la luce che si è originata quando si è originato l'universo non può aver viaggiato per uno spazio maggiore di questi 13 miliardi e 600 o 800 milioni di anni luce. E sì, perché questo universo occupato da tutte queste galassie, da tutte queste stelle, è qualcosa che non può esistere così come è stato descritto. Perché la gravità che attrae tutti gli oggetti che hanno massa lo farebbe implodere. Tutti gli oggetti si attrarrebbero uno con l'altro e finirebbero con l'unirsi. Com'è possibile che rimanga in piedi un universo così vasto e con così tanta materia all'interno? La risposta è venuta dalle ricerche che aveva fatto Hubble. Proprio nel cercare, nell'osservare l'universo, con le conoscenze che aveva, Hubble ha scoperto una legge fondamentale. Ha scoperto che, determinando in qualche modo quanto erano distanti le galassie che osservava, le galassie che osservava fuggivano sempre, si allontanavano sempre con una certa velocità e che la velocità con cui si allontanavano era tanto più grande quanto più le galassie erano distanti da noi. È un effetto che vedeva in quelle righe nere degli spettri delle stelle, degli spettri delle galassie. È un effetto che conosciamo, che sentiamo tutti quando sentiamo avvicinare un'ambulanza. L'ambulanza ha una sirena che ci sembra produrre un suono più acuto quando viene verso di noi e un suono più grave quando si allontana. Lo stesso fa la luce. Se la luce viene emessa da una sorgente che si sta allontanando da noi, si sposta verso frequenze più basse. La galassia diventa un po' più rossa invece che un po' più blu. E com'è possibile che più io prendo una galassia distante, più questa fugge da me? L'unica spiegazione di questo fenomeno è ammettere che l'universo si sta espandendo. Un'immagine a cui si ricorre sempre per spiegare questo fatto è quella di disegnare delle galassie, dei puntini, su un palloncino di gomma e poi gonfiarlo. I puntini si allontanano tutti l'uno dall'altro, ma se ci pensiamo bene, più sono lontani da qualunque punto noi abbiamo preso come riferimento, più si allontaneranno velocemente. Hubble ha permesso di scoprire che l'universo si sta espandendo. E se l'universo si sta espandendo, necessariamente doveva esistere un'epoca in cui era più compatto. Possiamo andare indietro nel tempo. Le leggi della fisica che conosciamo ci permettono di tornare indietro fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, quando l'universo nasceva, il Big Bang. Tutto l'universo era concentrato in un punto, un punto di un'energia e di una temperatura spaventose. Tutta l'energia dell'universo si trovava lì. Non cadiamo però nella trappola del pensare che questa sia un'esplosione che avviene in uno spazio vuoto. Quello è il momento in cui si origina lo spazio. È il momento in cui si origina il tempo. Lo spazio e il tempo nascono in quel preciso istante, nel Big Bang. Non c'è un prima, perché prima non c'era il tempo. Non c'è un fuori, o almeno non abbiamo idea di che cosa possa essere, perché è lo spazio stesso che si sta generando. Allora questo universo, caldissimo, ha cominciato a raffreddarci. Si sono formate le particelle elementari, si sono formati gli atomi. È diventata una palla di fuoco nella quale la luce non poteva assolutamente viaggiare, perché era così caldo, era così opaco. È una palla incandescente. E così è andato avanti per 380.000 anni. Dopo 380.000 anni si era affreddato così tanto che gli elettroni sono andati a unirsi ai nuclei e la luce ha potuto viaggiare liberamente. Era una luce calda che, con l'espansione dell'universo, è stata stirata, si è, per così dire, raffreddata, e che oggi conosciamo come radiazione cosmica di fondo. L'immagine catturata della radiazione cosmica di fondo è l'immagine più antica dell'universo che noi abbiamo, perché risale a 380.000 anni dopo il Big Bang. Ed ecco quindi un'altra immagine affascinante. Quando noi guardiamo il cielo stellato, non stiamo solo guardando verso distanze immense, ma stiamo guardando indietro nel tempo. Più un oggetto è lontano, più un oggetto è antico. Quando guardiamo le immagini di Hubble Space Telescope, dello spazio profondo, vediamo galassie che hanno tantissimi anni, perché la luce ha viaggiato per miliardi di anni per arrivare da noi. Vediamo come potevano essere le galassie molto tempo fa. Possiamo vedere con i nostri occhi, con i nostri telescopi, con i nostri apparecchi, come dovevano essere le stelle e le galassie tantissimo tempo fa. E quindi abbiamo un'altra dimensione, quella temporale, che si unisce a quella spaziale. Questo concetto di universo che si espande è un concetto che porta un'enorme innovazione anche in quello che è la nostra concezione di spazio. Lo spazio per noi è uno spazio vuoto, è uno spazio in cui ci sono gli oggetti, ma è qualche cosa di fermo, di esistente, di immodificabile. E pure lo spazio si sta espandendo. Quindi è qualche cosa di elastico, qualche cosa di deformabile. E la spiegazione che Einstein dà della gravità va proprio d'accordo con questa idea di spazio deformabile. Newton spiegava la gravità come la trazione tra due oggetti che hanno massa. Einstein la spiega in maniera geometrica. Per capirlo dobbiamo immaginare di prendere tutto lo spazio-tempo tridimensionale, quadridimensionale se ci mettiamo anche il tempo, e immaginare che sia un telo, un telo piatto. Se su questo telo disegniamo delle righe, sono delle righe dritte, se lanciamo una pallina su questo telo, questa pallina andrà dritta. Però dobbiamo immaginare che questo sia un telo elastico. Se sul telo elastico mettiamo delle palle, delle palle da bullying, delle sfere, questo telo si incurverà sotto il peso delle sfere. Più mettiamo massa, più il telo si incurva. E se lanciamo la pallina non va più dritta, ma rimane intrappolata in questa buca creata dalla palla e comincia a ruotargli attorno. Ecco che entra in orbita. Quindi la massa curva lo spazio-tempo. E lo spazio-tempo, essendo curvo, interagisce con gli oggetti che si muovono dando l'idea della gravità, dando l'idea di una forza attrattiva. È un effetto puramente geometrico. Questa spiegazione di Einstein permette di spiegare tutto quanto spiegava la teoria di Newton, ma anche altre cose. Soprattutto ci permette di immaginare che se noi prendessimo due masse e le facessimo ruotare una attorno all'altra, in questo telo si genererebbero delle onde, come se facessimo girare due pale all'interno di uno stagno. Queste onde di deformazione dello spazio-tempo sono le onde gravitazionali. Ora, le onde gravitazionali sono estremamente importanti per guardare all'universo in una maniera nuova, in una maniera moderna. Perché tutta quella conoscenza che abbiamo, come si sono evolute le stelle, come nascono, come si sono agglomerate nelle galassie, che cosa sono le nuvole di gas che vediamo nell'universo, proviene da una sola fonte, da un solo messaggero, la luce, la radiazione elettromagnetica. La luce è una vibrazione del campo elettromagnetico con precise frequenze. Quella che noi chiamiamo luce visibile è una piccola parte dello spazio-tempo elettromagnetico. Sono onde che vanno da 400 miliardesimi di metro a 700 miliardesimi di metro. Il nostro occhio può vedere solo quelle. Ma le stelle emettono molte più cose, anche in termini di radiazione elettromagnetica. emettono raggi X, emettono raggi gamma, microonde, onde radio. L'uomo è stato bravo a cambiare gli occhiali, è stato bravo a mettere strumenti sempre più sofisticati su satelliti fuori dall'atmosfera per guardare l'universo in tutte queste frequenze, in tutte queste bande, ma guardava sempre e solo la radiazione elettromagnetica. L'idea che ci possano essere onde dello spazio-tempo che si propagano ci permette di immaginare che ci siano altri messaggeri oltre alla radiazione elettromagnetica, altre informazioni. È un po' come se noi avessimo sempre visto un film muto. Se qualcuno ci aggiunge l'audio, questo film diventa molto più interessante, porta molte più informazioni. Allora, possiamo immaginare una stanza buia all'interno della quale c'è un pianoforte. Noi entriamo in questa stanza e non vediamo il pianoforte. Ma c'è un pianista che suona una nota e dal timbro di questa nota noi capiamo che c'è un pianoforte senza vederlo. Chiaro che la cosa più bella è guardare il pianista mentre suona il pianoforte, unire il suono e la luce. Ecco, quindi l'idea dell'astronomo moderno è quella di volere ottenere delle altre informazioni, delle informazioni che non sono solo codificate nella radiazione elettromagnetica, ma che lo sono anche nelle onde gravitazionali. Quel telo che abbiamo immaginato ha però un difetto. È estremamente rigido. Per curvarlo ci vogliono masse enormi concentrate in spazi molto piccoli. Ci sono solo due categorie di oggetti che sono così compatti da poter increspare questo spazio in maniera significativa, in maniera da poterla apprezzare con uno strumento. e sono i prodotti finali dell'evoluzione stellare, le stelle di neutroni o i buchi neri. Sì, perché quando una stella ha esaurito il suo combustibile, quell'esplosione che era in atto non funziona più e quindi è la gravità che ricomincia a comprimere tutta la materia. E questa materia può a un certo punto arrestarsi perché gli atomi non riescono a compenetrarsi uno nell'altro e questa è la fine che fanno le stelle come il nostro Sole. Ma può anche non arrestarsi a questo stadio. Può arrivare a uno stadio in cui tutti gli elettroni cadono sui nuclei, tutti i protoni che costituiscono i nuclei diventano dei neutroni. Si crea una specie di gigantesco nucleo dell'atomo in cui nel raggio di 30 chilometri sono compresse le masse di tre soli. Questa è una stella di neutroni. Se siamo sopra le masse di tre soli neanche questo processo riesce ad arrestare la gravità e praticamente il nostro telo di gomma si strappa e qualunque cosa che cade dentro, compresa la luce, non potrà mai uscire. E questo è un buco nero. Stelle di neutroni e buchi neri hanno una gravità tale da riuscire a curvare sufficientemente lo spazio-tempo per generare onde gravitazionali che lì vicino sono spaventose ma che alle distanze enormi alle quali noi ci troviamo possono ancora essere percepite. Ma è molto, molto, molto difficile. Due buchi neri che si fondono in una galassia vicina producono sulla Terra una variazione dello spazio-tempo. lo comprimono in una direzione e lo dinatano nell'altra alternativamente. Di quanto? Di quanto variano queste lunghezze? Beh, variano di una parte su 10 alla 23. Zero, virgola, 22, zeri. e poi la ventitresima cifra è quello che sta variando. Percepire questa variazione di lunghezza è difficile come misurare la distanza da qui alla stella più vicina con la precisione del diametro di un cappello umano. e quindi è un'impresa che da quando Einstein ha previsto l'esistenza delle onde gravitazionali ha causato sforzi tecnologici inimmaginabili per cento anni prima di arrivare finalmente alla scoperta. La tecnica che si usa è la tecnica interferometrica. Si usa la luce di un laser. viene mandata su un cristallo che la separa in due parti formando una sorta di L poi la luce si riflette su due specchi lontani torna indietro e si sovrappone con se stessa facendo una figura di interferenza. Se le creste dell'onda si trovano in coincidenza si ha una luminosità intensa se invece la cresta e il ventre di un'onda si trovano in corrispondenza si annullano e quindi si ha il buio. Allora se noi mettiamo questo interferometro in modo tale che si vede il buio se arriva un'onda gravitazionale che accorcia uno dei due rami della L allungando l'altro questo buio diventa luce alternativamente e noi vediamo l'onda gravitazionale. Sembra facile ma è molto difficile perché gli specchi devono essere isolati da qualunque tipo di vibrazione esterna perché la luce deve viaggiare sotto vuoto deve viaggiare per tantissimo spazio ci vorrebbero mille chilometri e però si sono inventate delle soluzioni tecnologiche a questo la luce è stata fatta rimbalzare tra due specchi si sono fatti interferometri lunghi tre chilometri o quattro chilometri si sono isolati gli specchi con delle torri fatte da pendoli in cascata ci sono delle soluzioni veramente avveniristiche che sono state messe in questi strumenti a tutt'oggi ne sono stati costruiti tre o meglio quattro due sono negli Stati Uniti e sono quelli della collaborazione LIGO uno si trova nello stato di Washington e l'altro si trova in Louisiana il terzo è stato costruito da una collaborazione inizialmente italo-francese vicino a Pisa nella piana di Cascina è lungo tre chilometri si chiama Virgo la difficoltà dell'impresa è tale che le collaborazioni si sono unite nell'analizzare i dati ed è una grossa collaborazione internazionale fatta da più di mille persone la LIGO Virgo Community che fa funzionare queste tre macchine e analizza insieme i dati i primi interferometri costruiti non hanno portato a nessun risultato non si vedeva nulla abbiamo osservato per molto tempo poi di volta in volta le informazioni le tecnologie di cui disponevamo erano tali che implementandole si migliorava sempre di più la sensibilità di questi strumenti finalmente il 14 settembre del 2015 è stato visto il primo segnale di onde gravitazionali due buchi neri di masse spaventose uno 36 volte la massa del Sole l'altro 29 volte la massa del Sole avevano cominciato a ruotare uno attorno all'altro e in questa rotazione vorticosa perdevano energia perdevano energia proprio perché deformando così grandemente lo spazio-tempo attorno a loro producevano onde gravitazionali la perdita di energia faceva sì che la velocità di rotazione diventasse sempre più grande e quindi la frequenza delle onde stava cominciando a crescere sempre di più sempre di più le onde crescevano in frequenza e crescevano in ampiezza fino a quando i due buchi neri sono diventati così vicini che si sono fusi in un altro buco nero un buco nero di 62 volte la massa del Sole ora se sommiamo le masse dei buchi neri originali non arriviamo a 62 mancano tre masse solari tre masse solari che sono state convertite in onde gravitazionali perché la massa si può convertire in energia secondo la famosa equazione di Einstein energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato queste onde hanno viaggiato per più di un miliardo di anni fino ad arrivare da noi fino ad arrivare sulla Terra deformando lo spazio-tempo contraendo le lunghezze in una direzione e allungandole nell'altra e questa microscopica variazione piccolissima variazione dello spazio è stata percepita dagli interferometri della collaborazione all'epoca erano accese solo le due macchine degli Stati Uniti le due macchine di LIGO perché nel continuo processo di miglioramento degli strumenti Virgo era andato attraverso una fase intermedia in cui dovevano essere provate queste tecnologie su richiesta degli enti finanziatori e dei governi e quindi doveva ancora essere completata mentre le macchine degli Stati Uniti che non avevano fatto questa fase intermedia funzionavano già il 14 settembre del 2015 questo segnale che cresceva in frequenza e in ampiezza quello che in linguaggio tecnico viene chiamato CIRP cinguettio è arrivato nell'interferometri in maniera inequivocabile creando un grandissimo scompiglio nella comunità perché prima di asserire che erano state viste le onde gravitazionali bisognava fare tantissimi controlli veramente moltissimi già in passato era successo che qualcuno avesse pensato di avere rivelato le onde gravitazionali ma poi non era vero c'era anche un altro aspetto da raccontare che per essere proprio sicuri di vedere una cosa così piccola nelle collaborazioni esiste un team di due tre persone che possono simulare il segnale di un'onda gravitazionale iniettarlo nelle macchine senza che nessuno lo sappia e lasciare che gli scienziati facciano il loro lavoro identificandolo arrivando quasi a scrivere l'articolo della scoperta per poi dire era uno scherzo eravamo noi però quel giorno si sapeva che era successo qualcosa di eccezionale si sapeva perché questo sistema non funzionava e quindi il segnale che era arrivato anche se le macchine erano appena state accese per iniziare questa presa dati scientifica non poteva essere che un segnale vero non poteva essere finto e l'emozione è stata grandissima però per mesi non si è detto nulla si è andati avanti a fare controlli su controlli su controlli fino a quando l'11 febbraio del 2016 la notizia della prima osservazione delle onde gravitazionali è stata data al mondo è una scoperta importantissima perché apriva la possibilità all'uomo di guardare quell'altro canale quell'altro messaggero le onde gravitazionali perché era la prima volta che si vedevano davvero dei buchi neri i buchi neri non emettono nemmeno luce l'unico modo per essere sicuri che ci sono in maniera diretta era guardarli attraverso le onde gravitazionali perché si capiva che la teoria di Einstein era vera anche in condizioni estreme tantissime sono state le scoperte che hanno accompagnato questa prima osservazione possiamo dire che è nata l'astronomia multimessaggera no possiamo dire che è nata l'astronomia gravitazionale perché perché con solo due macchine in funzione la regione di cielo da cui dovevano provenire queste onde gravitazionali era troppo grande per parlare di astronomia quando noi parliamo di astronomia diciamo che stiamo osservando quella stella quella sorgente luminosa che puntiamo il telescopio lo strumento in quella direzione e qui però stavamo esplorando una sezione di cielo molto grande i telescopi ottici i telescopi gamma tutte le macchine del mondo che osservano il cielo sono andate a guardare in quella regione per vedere se per caso ci fosse una luce da accompagnare queste onde gravitazionali ma non l'hanno vista è vero che due buchi neri non dovrebbero emettere luce quando si fondono però bisogna provarlo e la direzione di questa sorgente non era così chiara perché due macchine non riescono a fare un puntamento così buono nella direzione del cielo non è stato l'unico evento poco tempo dopo ne è stato visto un altro e poi un altro ancora e poi un altro ancora questi buchi neri che si fondevano diventavano qualcosa di molto comune nelle prime due prese dati scientifiche ne sono stati visti una decina la cosa interessante però è avvenuta più tardi è avvenuta nel 2017 durante la seconda presa dati scientifica il terzo interferometro Virgo aveva quasi finito di risolvere i suoi problemi purtroppo ci si avviava verso la fine della presa dati che era prevista per il 25 agosto del 2017 perché bisognava procedere a introdurre delle nuove migliorie tecnologiche per rendere queste macchine ancora più sensibili una volta risolti i problemi si poteva far funzionare le tre macchine in coincidenza tutte e tre insieme e questo è stato fatto anche se tardivamente perché erano il primo di agosto il primo di agosto la sensibilità di Virgo era sufficiente da poter permettere di osservare il cielo con i tre interferometri e siamo stati molto fortunati perché il 14 agosto è arrivato un segnale di fusione di due buchi neri che per la prima volta è stato visto dai tre interferometri insieme e che ha permesso di puntare una regione di cielo estremamente piccola già di per sé questo era un successo perché in quel momento nasceva davvero l'astronomia gravitazionale eravamo in grado di dire stiamo guardando quella porzione di cielo così piccola ma la fortuna è andata oltre tre giorni dopo il 17 agosto del 2017 è arrivato un segnale che non si era mai visto questi segnali di fusione di buchi neri durano frazioni di secondo due decimi di secondo il primo che avevamo visto questo è durato un minuto cosa voleva dire un segnale che durava un minuto voleva dire che le masse dei due oggetti che si stavano fondendo erano veramente piccole così piccole da poter essere due stelle di neutroni allora due stelle di neutroni che si fondono non erano mai state viste da un punto di vista gravitazionale ma quello che era straordinario è che contemporaneamente i satelliti fermi della NASA che orbitava attorno alla Terra aveva visto un lampo di luce gamma questi lampi gamma sono qualcosa di misterioso che si cerca da anni di capire una delle teorie era che un lampo gamma venisse prodotto quando due stelle di neutroni si fondevano e tra il momento della fusione delle due stelle di neutroni e quello dell'emissione del lampo gamma dovevano passare secondo le teorie due secondi quel lampo gamma che aveva visto fermi era esattamente due secondi dopo il momento della fusione delle stelle di neutroni che proveniva proprio da quella direzione allora tutta la comunità mondiale si è messa in allarme tutti gli osservatori del mondo cercavano di guardare per vedere se ci fosse della luce che accompagnava quel segnale che avevamo rivelato perché due stelle di neutroni che si fondano possono emettere luce la sorgente era sopra Madagascar ed era circa mezzogiorno tutti gli osservatori di questo emisfero non potevano vedere nulla si è dovuto aspettare che gli osservatori del Cile entrassero nella notte e finalmente verso mattina Suopi in una galassia lontana ha visto comparire un punto luminoso che non c'era prima e quindi è riuscito ad associare quelle onde gravitazionali all'emissione elettromagnetica di quell'evento evento che è stato confermato poi dalle osservazioni successive questa luce è stata guardata studiata in tutti i suoi modi per 11 giorni ha permesso di risolvere tantissimi enigmi per esempio quello degli elementi pesanti nella fase finale di vita di una stella si possono produrre elementi pesanti fino al ferro ma gli altri l'oro per esempio chi lo produce l'oro beh si è trovata proprio la firma della produzione degli elementi pesanti in quella luce quell'evento che viene chiamato chilonova lì l'ambiente di due stelle di neutroni che si fondono è così ricco di neutroni da permettere facilmente la formazione di nuclei più pesanti come quelli degli elementi più pesanti così si è conclusa la seconda presa dati scientifica un grande successo in quel momento il 17 agosto del 2017 è nata l'astronomia multimessaggera per la prima volta abbiamo visto le onde gravitazionali e le emissioni elettromagnetiche insieme le macchine sono state migliorate sono state rese ancora più sensibili e poi sono ritornate in presa dati la terza presa dati scientifica qui gli eventi che erano stati solo una decina nelle prime osservazioni erano diventati routine tutte le settimane si assisteva più o meno alla fusione di due buchi neri allora uno si chiede se così tanti buchi neri si stanno fondendo che cosa stiamo imparando quali sono le informazioni nuove che ci sono qui bisogna pensare un pochino alle masse di questi oggetti abbiamo detto sotto una massa e mezzo sotto una volta e mezzo la massa del sole sono stelle normali tra una e mezzo e tre si formano stelle di neutroni uno dei misteri è che fra tre masse solari e cinque masse solari non si è mai osservato niente poi c'è la regione dei buchi neri da cinque masse solari fino a circa cento anche un po' prima di cento le stelle quando muoiono e sono così massicce formano dei buchi neri e poi e poi non si osserva più nulla fino a buchi neri enormi buchi neri di milioni di masse solari che sono al centro delle galassie sono i nuclei galattici attivi quasi tutte le galassie hanno al centro un buco nero gigantesco che non è frutto della morte di una stella ovviamente ma probabilmente si è generato ai primordi dell'universo e poi ha agito in qualche modo da catalizzatore per formare le galassie attorno a sé ecco in quella regione intermedia fra gli 80 100 e le 100.000 masse solari ci sono i cosiddetti intermediate mass black holes cioè i buchi neri di massa intermedia che nessuno ha mai osservato trovare qualche cosa in queste regioni è sicuramente di estremo interesse nella terza presa dati scientifica con così tanti eventi sono successe cose molto interessanti ne voglio raccontare solo qualcuna il 25 aprile del 2019 è stato visto un secondo segnale di stelle di neutroni era molto più lontano del primo che avevamo osservato non è stata vista un'emissione elettromagnetica non è stata vista probabilmente perché la direzione in cui era stata emessa non puntava verso la terra perché erano molto lontane perché il segnale non era così bello come quello che era stato osservato però anche in questo caso c'era qualcosa di interessante se fossero due stelle di neutroni si tratterebbe del sistema di stelle di neutroni più grosso mai visto e se fossero due buchi neri sarebbero due buchi neri così piccoli da essere in quella regione dove non si sarebbe mai capito come potessero esserci dei buchi neri così piccoli o perché non ci fossero buchi neri così piccoli il 14 agosto del 2019 c'è stato un altro evento singolare un buco nero di 23 volte la massa del sole ha catturato un oggetto molto più piccolo un oggetto che aveva solo 2,6 volte la massa del sole era una stella di neutroni che cadeva in un buco nero o era un altro buco nero più piccolo che cadeva lì dentro anche in questo caso non si sa ma sarebbe estremamente interessante perché sarebbe o una stella di neutroni molto massiccia o un buco nero molto leggero ma l'evento forse più straordinario è quello del 21 maggio del 2019 lì due buchi neri veramente enormi uno di 66 volte la massa del sole e uno di 85 volte la massa del sole si sono fusi a formare un oggetto di 142 masse solari le 9 masse solari che mancano sono state convertite in onde gravitazionali cosa c'è di interessante in questo beh sicuramente uno dei due genitori quello di 85 masse solari è così grande che non si capisce come possa essersi formato perché le stelle quando arrivano a quei valori di massa hanno un meccanismo chiamato la produzione di coppie che crea un'instabilità un'instabilità per la quale la stella finisce col perdere massa e non può arrivare a questi valori così grandi quindi come è possibile che ci fosse un buco nero così grande forse perché era già a sua volta il prodotto della fusione di altri due buchi neri ma la cosa interessante è anche che fondendosi e formando un oggetto di 142 masse solari beh abbiamo assistito per la prima volta alla nascita di uno di quei buchi neri di massa intermedia di cui si avevano soltanto indicazioni indirette quindi continuare a osservare in questa direzione ci ha dato una nuova dimensione qualcosa che le onde elettromagnetiche non ci potevano dare ci ha permesso di scoprire una popolazione di buchi neri di cui non si sapeva l'esistenza ci ha permesso di capire che questi sono veramente molti che si stanno fondendo a dei ritmi molto elevati quando invece noi pensavamo che non fosse nemmeno possibile osservare eventi di questo tipo quando sono cominciate le versioni di buchi neri quando hanno cominciato a formarsi i buchi neri così grossi quali meccanismi portano alla loro formazione si catturano mentre stanno viaggiando nello spazio sono un sistema di stelle che orbitano l'uno attorno all'altro che muoiono prima una e poi l'altra diventano buchi neri per vedere questo bisogna andare sempre più lontani essere sempre più sensibili raccogliere sempre più dati e questo è in programma noi in questo momento stiamo migliorando ulteriormente le macchine avevamo in programma di entrare in presa dati per la quarta volta ma la pandemia ha creato dei ritardi non ancora ben quantificati poi ci sarà una quinta presa dati con questi strumenti e poi arriveremo a un punto tale nel quale bisogna prendere delle decisioni drastiche perché questi strumenti non possono essere migliorati oltre questo limite il futuro remoto c'è il progetto di costruire un triangolo di 10 km di lato sotto terra che ospita 6 interferometri 3 che operano a bassissime temperature 3 che operano a temperatura ambiente che dovrebbe permettere di guardare così lontano da percepire se mai fosse possibile l'eco del del Big Bang ma non nella radiazione elettromagnetica che abbiamo detto non può essere vista per un'epoca anteriore ai 380 mila anni ma nelle onde gravitazionali Einstein Telescope ET è già progettato ci sta arrivando a finalizzare il progetto a definire meglio le tecnologie che devono essere impiegate bisogna studiare un sito opportuno dove costruirlo al momento ci sono due candidati uno è in Sardegna vicino alle miniere di Sos e Nattos e l'altro è a confine tra Belgio Olanda e Germania bisognerà sperare che di farlo in Italia sarebbe una grande opportunità per il nostro paese per la Sardegna però chiaramente l'importante è riuscire a farlo perché quello sarà veramente lo strumento del futuro così come il cannocchiale di Galilei aveva fatto nascere l'astronomia tradizionale così gli interferometri hanno fatto nascere l'astronomia gravitazionale e l'unione delle due ci ha permesso di vedere l'universo con altri occhi con più messaggeri cioè di esplorare l'universo secondo i dettami di una nuova disciplina che è l'astronomia multimessaggera che è quella che possiamo considerare l'astronomia contemporanea l'astronomia moderna da quel cielo stellato che sembrava prigioniero in una volta solida che ruotava attorno alla terra oggi abbiamo una visione dell'universo completamente diversa molto più dinamica molto più straordinaria e a mio avviso molto più affascinante di quella mitologica che ruotava Grazie a tutti.